Emergenza medici all'ospedale di Caserta. In particolare ad essere sottonumero sarebbe il reparto di Otorino Laringo Iatria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano. Un fatto che mette seriamente a rischio le prestazioni essenziali del reparto. E su questa avvertenza è intervenuto con un'interrogazione al sindaco del capologo Pio Del Gaudio, il gruppo consigliare del PD. Il personale dell'unità operativa di Otorino Laringo Iatria si legge nell'interrogazione e garantisce la copertura 24 ore su 24 con turni di reperibilità notturna e festiva. Unico presidio di tale tipologia in tutta la provincia di Caserta dove la figura di locopedista consente il corretto percorso riabilitativo necessario a garantire il buon esito finale di delicati interventi chirurgici, anche di implantologia cocleare. Pertanto il gruppo consigliare del PD, composto da Franco De Michele, Carlo Marino, Enrico Tresca e Rino Zullo, chiede al sindaco di attivarsi nei confronti del Ministero della Salute affinché emani una deroga al blocco del turnover per mantenere i livelli essenziali di assistenza. Non solo i democratici chiedono al sindaco, in virtù della sua massima autorità responsabile della salute pubblica dei cittadini, di intervenire presso la dirigenza dell'azienda ospedaliera e presso il commissario regionale alla sanità, allo scopo di salvaguardare i servizi erogati dall'unità operativa di Otorino Laringo Iatria. Grazie.